Buongiorno e bentrovati al TG6. Forza Italia organizza una mobilitazione in tutto l'Abruzzo, la volta di Roma, all'occasione il Family Day del 30 gennaio, il tema è quello delle unioni civili e delle adozioni. Francesca Romanatesti. Unioni civili, teoria gender e famiglia tradizionale. Sempre questo è il tema degli ultimi giorni che vede rincorrersi dichiarazioni tra istituzioni e associazioni. Se da un lato il ministro all'istruzione Stefania Giannini ha dichiarato inesistente l'introduzione della teoria gender nei percorsi formativi delle scuole italiane, dall'altra anche in Abruzzo ci si prepara la mobilitazione per la questione del diritto sull'adozione. Chi propugna una teoria cosiddetta gender propugna qualcosa che va contro la natura. Diverso il discorso invece del riconoscimento dei diritti delle coppie civili formate da due persone nello stesso sesso. È indubbio che uno Stato moderno e democratico deve tutelare in un buon modo i diritti di coloro che intendono percorrere un percorso di vita insieme pur essendosi successo. Ma altrettanto certo che una cosa è la famiglia e una cosa sono le unioni civili. C'è un vulnus normativo nella nostra legislazione che va colmato per completare il riconoscimento dei diritti delle coppie civili. Ma certamente quello che prevede oggi il decreto Cirinna è qualcosa che non sta niente in terra. Tutto questo non è possibile e noi partiamo dall'Abruzzo per andare a manifestare il 30 gennaio a Roma con dei pullman che partiranno da tutte le parti di Abruzzo per far sentire la nostra voce e la solidarietà a coloro che vogliono combattere questa battaglia. Si aderisce attraverso, contattandoci attraverso la pagina Facebook Family Day in gennaio Abruzzo, Gruppo Abruzzo, perché credo che sia importante andare a far sentire la nostra voce. E a sostenere rispetto dei diritti civili di tutti i tipi c'è anche la senatrice del Partito Democratico, Stefania Pezzopane. Germana Dorazio. Anche la senatrice Stefania Pezzopane manifesta per le unioni civili. Con quale spirito si unisce a questo movimento? Con lo spirito di chi pensa, e io sono tra questi, che l'Italia sia molto in ritardo e che in tanti altri paesi d'Europa e nel mondo esistono già leggi che determinano i diritti e i doveri delle unioni civili e che queste leggi hanno portato molti aspetti positivi. Nel nostro paese c'è un ritardo. La prossima settimana iniziamo la discussione in Senato per legiferare in questa materia, per colmare un ritardo storico. E da assessore comunale alle politiche sociali, io sono stata, assieme ad altri colleghi, consiglieri d'assessori, protagonista di uno dei primi elenchi albi delle unioni civili di una città del mezzogiorno. Fu io a portare la delibera in consiglio comunale, però quelle delibere non hanno nessun effetto senza una legge. E questa legge riconosce i diritti e i doveri delle coppie che si uniscono non in matrimonio ma attraverso altri principi giuridici che però determinano appunto diritti e doveri. Entra in gioco in questa legge una problematica molto delicata che è quella dei bimbi che sono già presenti, già nati nella formazione di queste coppie. Quindi tra due persone, se uno dei due o entrambi hanno dei figli provenienti da relazioni precedenti, nella legge si propone che possano essere adottati. E su questo c'è ancora un dibattito molto aperto, molto delicato, soprattutto per le conseguenze che potrebbe avere la pratica dell'utero in affitto o maternità surrogata, come viene chiamata, che è una pratica che giustamente e fortemente è vietata in Italia ma non in altri paesi. Quindi siamo ancora alla ricerca di un equilibrio ma insomma già questa legge fa un passo avanti molto grande, molto importante, io la sostengo. L'Abruzzo sotto l'autorità portuale di Ancona, la riforma dei porti affida alle Marche il comando ma il governo D'Alfonso vuole a tutti i costi essere accorpato a Civitavecchia per creare un corridoio tirreno adriatico. Vediamo. I porti di Pescara e Ortona destinati a finire sotto l'autorità marchigiana. Nella riforma in corso l'Abruzzo storce il naso e promette che come aveva pianificato e deciso l'autorità alla quale fare riferimento sarebbe stata quella di Civitavecchia per tutta una serie di ragioni che avrebbero garantito alla regione uno sviluppo commerciale e viario. La decisione ora resta nelle mani da un lato di Graziano Del Rio, ministro alle infrastrutture e trasporti e dall'altra Luciano D'Alfonso, presidente della regione Abruzzo. Intanto c'è una buona notizia, il fatto che i porti nazionali abruzzesi, cioè Pescara e Ortona, entrano in l'autorità portuale è una notizia positiva perché significa che partecipiamo alla ridistribuzione delle risorse che sono destinate solo all'autorità portuale. Ora qual è il punto? Che secondo il governo questa prima impostazione noi dovremmo essere all'interno, non sotto, all'interno dell'autorità portuale di Ancona. Noi però abbiamo dimostrato con i numeri alla mano che ci sono, che c'è una prospettiva economica di crescita molto maggiore rispetto a quella ipotizzata dal governo se ci alleiamo con Civitavecchia perché diventiamo il collegamento tra i due mari e diventiamo cioè ciò che serve a Civitavecchia nel mare Adriatico. Qualcuno ha detto che fine fa il porto di Vasto, non se ne è parlato? Possono far parte dell'autorità portuale solo i porti di rilevanza nazionale, in Abruzzo ce ne sono due, Pescara e Ortona. Ma dobbiamo stare attenti, può essere anche un vantaggio a volte perché stare dentro l'autorità portuale significa più risorse ma significa anche potenzialmente più costi, soprattutto dei servizi. Quindi ciò che noi vogliamo fare è arrivare ad un accordo per cui stiamo con Civitavecchia e ragioniamo su come ci dobbiamo stare, non necessariamente applicando i costi che Civitavecchia fa pagare alle loro imprese portuali, per esempio al sistema portuale regionale. E sull'argomento il Presidente dell'Aggiunta regionale Luciano D'Alfonso incontrerà la prossima settimana il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Del Rio che ha fornito massima disponibilità appunto per definire il tema della migliore collocazione strategica funzionale per i porti di Ortona e Pescara e dell'intera portualità regionale. A Pescara tornano a chiedere l'intervento delle istituzioni residenti di Fontanelle, degrado e faticenza all'interno degli appartamenti con infiltrazioni e umidità sulle mura. Farsi portavoce dei cittadini? Ancora una volta il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Ascoltiamolo. Ancora denunce per Fontanelle i suoi residenti. Domenico Pettinari torna a farsi portavoce dei cittadini ormai costretti a vivere in case fatiscenti e in condizioni di sicurezza scarse. Nel mese di dicembre la protesta era arrivata sotto al palazzo della regione a Pescara ma poi nulla più si è mosso. Intanto vorremmo capire, i cittadini vorrebbero capire il presidente della regione e il sindaco di Pescara dove sono. Perché da mesi che li chiamano, li cercano e hanno il presidente dell'associazione insieme per Fontanelle ha inviato anche una lettera formale per una richiesta d'incontro e mesi fa ci ha fatto aspettare diverse ore doveva venire il presidente della regione e non è venuto perché il presidente della regione, la regione, è proprietaria delle case Ater. Case Ater che qui stanno letteralmente cadendo, adesso addirittura degli intonaci esterni delle case si staccano, cadono a terra, quindi mettendo a serio rischio l'incolumità dei cittadini. Non ci sono risorse necessarie per risolvere questi problemi e il problema è l'emergenza sicurezza non solo permane ma è aumentato a livelli stratosferici, si continua a spacciare sotto i palazzi, dentro i palazzi, i cittadini ci contattano, ci chiamano in piena notte, problemi serini, c'è grande paura, tutti problemi irrisolti, ma intanto la cosa principale è che ristrutturassero le case popolari, purtroppo non si vede nulla. I residenti vivono in condizioni di scarsa salubrità come ci mostra un inquilino che ci apre le porte di casa sua, umidità sui muri, infiltrazioni di acqua e problemi di salute. Lì c'è la caldaia, ho paura quando piove che c'è la corrente e mi fa danno in casa, non vengono mai a vedere, a controllare, a fare il lavoro come si deve, c'è la macchia ancora quando piove che scende. E adesso chiedono aiuto e un intervento alle istituzioni per ottenere un miglioramento delle condizioni di vita. 15 militari e i cani del nucleo cinofili di Chieti per l'operazione antidroga condotta a Pratola-Peligna, provincia di L'Aquila, dai carabinieri della Compagnia di Popoli, coordinati dal capitano Antonio Di Cristofaro. Durante la perquisizione in uno stabile di località Valle Madonna sono stati trovati 5 panetti di hashish e 200 grammi di marijuana, nonché bilancini di precisione, bustine per il confezionamento delle dosi e mannite per tagliare la cocaina. Svolta nelle indagini sul rogo del pub di Chietiscalo, il Coiba, avvenuto lo scorso 27 ottobre, i carabinieri hanno denunciato la ex titolare, sarebbe stata lei appunto ad accendere il rogo. Per i carabinieri è stata Antonella Gasparro, 36enne pescarese ex titolare del Coiba, ad appiccare il fuoco al pub di Chietiscalo divorato dalle fiamme il 27 ottobre scorso, rogo che ha danneggiato l'intera palazzina di Viale dell'Unità d'Italia, costringendo all'evacuazione gli inquilini. Dunque è stato risolto il giallo del rogo doloso, con un'inchiesta che è andata a ritroso nel tempo fino al 5 di settembre, quando la Gasparro ha denunciato presunti pestaggi di intimidazioni. Tutto partirebbe da quella data, dai dissapori con i proprietari dello stabile e del circolo che le avevano intimato lo sfratto per morosità che sarebbe stato eseguito il 29 ottobre, due giorni dopo il rogo, contrasti che sarebbero sfociati nelle denunce della donna. Ad aiutare nelle indagini il nor dei carabinieri di Chieti sono state le testimonianze e le immagini delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso l'ultima persona ad uscire dal locale prima che partisse l'incendio proprio Antonella Gasparro. Per lei, ora, il Tribunale di Chieti ha disposto il divieto di dimora in città. Confartigianato Imprese Chieti ha raccolto nei giorni scorsi le adesioni per la proposizione del ricorso al TAR Lazio contro la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per tutelare gli oltre 700 risparmiatori coinvolti nel caso delle obbligazioni subordinate di Cari Chieti. Abbiamo raccolto le adesioni di 30, dichiara il Direttore Generale di Confartigianato Imprese Chieti, Daniele Giangiulli, i nostri legali, gli avvocati Giuseppe Simone Di Tizio ed Ernesto Pagliarici hanno provveduto nella giornata di giovedì scorso a portare alla notifica il predetto ricorso. Sono in totale 100 i risparmiatori che si sono affidati a Confartigianato e che nelle prossime settimane aderiranno ad altre azioni giudiziarie che la Confartigianato ha intenzione di mettere in campo. Secondo Giangiulli, la Cari Chieti non doveva essere coinvolta nel decreto salva banche perché non versava in stato di dissesto patrimoniale, tant'è vero che il commissariamento attivato per problemi di governance, continua il Direttore di Confartigianato Chieti, non è mai stato trasformato in quello per grave deficit patrimoniale. E con l'hashtag Io Sto Con Silvia, una cinquantina di manifestanti hanno protestato sotto la sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara contro la realizzazione dell'elettrodotto Villanova-Gissi e a sostegno di Silvia Ferrante, la mamma di Paglieta in provincia di Chieti a cui Terna ha chiesto 16 milioni di euro di risarcimento d'anni. Alfredo Primante. Sittini di protesta davanti alla regione per accendere i riflettori di nuovo sull'elettrodotto Villanova-Gissi, un'opera che sta andando avanti, la regione doveva così dare alcune risposte che però non sono arrivate. La regione Abruzzo aveva degli obblighi, intanto che derivavano dal decreto di autorizzazione del Ministero del Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente Prima con la valutazione di impatto ambientale e non sta rispondendo anche a numerose segnalazioni che vengono dai cittadini molto documentate per un'opera molto impattante sul territorio e soprattutto a rischio idrogeologico. Ricordo che 55 piloni su 150, quindi più di un terzo, sono collocati in aree a rischio idrogeologico, quindi o a rischio frane o a rischio alluvione. Non lo diciamo noi, sono le mappe ufficiali a dirlo. Sono piazzati dove arriva il fiume Pescara, dove arriva le frane, in alcuni casi sono frane attive. Ed è un'altra cosa incredibile che gli enti pubblici stiano facendo i controlli sostanzialmente sulle carte, poi però se uno va sul territorio va sui piedi, sulle frane che incombono sui piloni. Beh, pensare di un'opera pubblica in questo modo è il modo migliore per poi far accadere le tragedie nei prossimi anni. Ci siamo ritrovati a circa 80 metri da casa, alla linea di questo grande elettrodotto. È chiaro che ci siamo cominciati a fare delle domande, ci siamo chiesti che il rischio potesse correre il nostro figlio, appunto piccolino, nell'eventualità di questa grande opera. Si rischiano le uccemie infantili, nessuno ci può dire di stare tranquilli perché nessuno esclude che queste insorgenze non ci siano e quindi abbiamo cominciato a partecipare attivamente alle vicende legate al territorio. Tra pochissimo il primo di febbraio ci sarà la prima udienza della causa civile intentata da Terna nei suoi confronti, sono 16 milioni di euro che sono stati chiesti, insomma una bella somma. Sì, tra le 24 citazioni perché non ne ho ricevuta una sola, facendo una media siamo a 16 milioni. La cosa strana è che sia un risarcimento danni per la semplice presenza nel momento che viene chiamato dell'immissione in possesso dove la mia figura è stata totalmente marginale perché ero lì appunto a testimoniare e chi per legge era l'unico legittimato eventualmente ad opporsi era proprio il proprietario e questo è successo. Tra l'altro mi viene contestato un comportamento violento, se fosse stato quello avrebbero dovuto fare un penale, una denuncia penale. Intanto mi difenderò, che cosa devo fare? Mi sono stata citata, bene andiamo a giudizio, vediamo che cosa succede. Sarebbe bello andare via, ma uno con che soldi compro un'altra casa, due chi se la compra quella nella quale vivo visto che c'è questa grande opera e quindi continueremo intanto a fare tutto quello che è possibile per portare alla luce quello che non va. Tornano alti i livelli di smog a Pescara ma l'amministrazione comunale dopo la revoca dell'ordinanza sulle targhe alterne e al vaglio di misure contenitive alternative. Tornano alti i valori dello smog a Pescara. Una settimana dallo stop delle auto con l'ordinanza sulle targhe alterne, l'amministrazione comunale fa sapere di non avere intenzione di reintrodurre la restrizione che tante polemiche aveva scaturito, ma al contempo di essere al vaglio di alternative utili a ridurre il fenomeno. Ci troviamo in una fase sicuramente negativa però dopo un periodo dovuto sia all'intervento che è stato fatto nella settimana scorsa sia anche al tempo che ha portato pioggia, neve e vento che ha spazzato via un po' le micropolveri sulla città. Si pensa alle domeniche ecologiche come strumento da introdurre per rendere meno problematica la viabilità per i lavoratori e gli studenti, ma resta di fatto un problema causato da due fattori. Da un lato le emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento e dall'altro l'alta affluenza di vetture che ogni giorno attraversano Pescara. Stiamo riprendendo le operazioni di lavaggio delle strade, più altre iniziative, comprese quelle che sono le domeniche ecologiche per l'impatto che queste possono avere. Sicuramente vedremo l'evolvere della situazione e ci auguriamo che le condizioni migliorino per evitare provvedimenti drastici o provvedimenti che comunque devono tenere sotto controllo la qualità dell'aria. Nuova manifestazione degli operai della storica fonderia VECO di Martinsicuro scesi in piazza per tenere viva l'attenzione sulla situazione di un'azienda che ad oggi occupa 74 operai. I lavoratori attualmente sono in assemblea permanente. L'iniziativa odierna si pone in continuità con quelle messe in campo fino ad oggi per evitare la chiusura della fonderia, ancora in attesa del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale. Oggi i lavoratori sono scesi in corteo per sollecitare gli enti ed accelerare l'iter per la riapertura della fonderia, commenta il segretario provinciale della FIOM CGL Giampiero Dozzi nel rispetto delle prerogative di tutti. L'obiettivo è sollecitare lo sblocco della vertenza. E solo il 27% di adesione allo sciopero di ieri da parte dei lavoratori della TUA, l'azienda di trasporto unica abruzzese, resta la polemica sulla sicurezza dei mezzi e sui turni di lavoro scaturiti dopo la firma per i contratti di secondo livello. Uno sciopero di 4 ore e dei bus sulle tratte di percorrenza di Pescara e Provincia. Questo era stato l'annuncio promulgato da due sindacati per venerdì 22 gennaio. Fa esacisa le UGL e ferrotranvieri. Dalle 9 alle 13 l'orario scelto e nella nota si sottolineava l'incertezza anche dopo le 13. A monte del disservizio ancora una volta i famigerati con tratti di armonizzazione tra le tre società fuse nella nuova TUA. Nello specifico si parla della non corretta valutazione dei recuperi di produttività riferiti ai servizi urbani ed extraurbani. Le due sigle sindacali inoltre avevano sottolineato diverse criticità ancora irrisolte nonostante la firma dello scorso mese di ottobre, la revisione dei tempi di percorrenza delle corse urbane, suburbane ed extraurbane, i servizi igienici dei capolinea, la segnaletica stradale insufficiente, la carenza di corsie preferenziali, il degrado della sede di pene, la sicurezza dei veicoli e dei depositi aziendali. In tarda mattinata la società di trasporti unificata TUA diffonde questi dati. A partecipare allo sciopero è stato il 27% del personale di servizio. Su un totale di 146 addetti se ne sono astenuti 40. Inoltre, precisa l'azienda, alcune delle questioni che i sindacati hanno citato per giustificare lo sciopero sono state affrontate e risolte con il contratto siglato il 26 ottobre. La sicurezza purtroppo non si può transiggere e sui numeri io adesso devo verificare, ancora non posso dare perché presto non ho avuto l'occasione di verificare i numeri. Ma sulla sicurezza non si transiggere. Noi abbiamo fatto una lettera, le quattro sigle sindacali abbiamo fatto una lettera abbastanza forte sia alla Regione sia al Presidente D'Amico. Lunedì alle ore 10 in Regione ci incontreremo e chiederemo conto di quello che non si è fatto fino ad ora. Il Comune di Campli e l'Istituto Comprensivo hanno presentato il progetto denominato Letture a Voce Alta. La lettura è un vizio che va coltivato da piccoli. Ne è convinto il Comune di Campli che realizza il progetto Letture a Voce Alta per favorire l'amore per i libri sin dalla scuola dell'infanzia. L'iniziativa, intrapresa dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Campli-Santo Nofrio, Associazioni e Aziende del Territorio, ha consentito di allestire tre nuove biblioteche nelle scuole dell'infanzia di Campli, Campo Valano e Santo Nofrio. Il progetto nasce dalla proposta che è giunta in Comune, che è stata fatta da un'importante casa editrice, aiutaci a crescere e acquista un libro. Quindi abbiamo rivolto poi noi la richiesta alla Preside e abbiamo pensato di rivolgerci alle scuole dell'infanzia che non avevano biblioteche. Il progetto Lettura prevede innanzitutto dei momenti laboratoriali all'interno delle bibliotechine. Noi siamo fermamente convinti che la lettura costituisca uno degli aspetti preminenti dello sviluppo del bambino, sia in termini di sviluppo affettivo che in termini di sviluppo cognitivo. Un aspetto molto importante sarà partire già con la presentazione di un libro e poi si attiverà un servizio di prestito alle famiglie. Quindi ogni alunno potrà portare a casa un libro e saranno i genitori a leggere le storie. Una nuova offerta scolastica, come diceva lei, per i nostri ragazzi che si va a unire a tutte le altre iniziative. Voglio ringraziare la Prologo di Campli, l'associazione Memorial Progetto, Ristorante Tunnel e l'azienda Terconv che ha supportato economicamente questa bella cosa. Siamo molto felici e quindi continuiamo su questa strada perché stiamo facendo tanto nella scuola. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Se vinciamo domani andiamo in Serie A. È una mia convinzione nella conferenza stampa di vigilia del posticipo di Serie B Perugia-Pescara. Il programma domani alle 17.30. Il tecnico biancazzurro Massimo Oddo dribbla le domande sul mercato ed alza il tiro per la posta in palio della gara del Curi. Fiamozzi giocherà al posto di Crescenzi con Zampano dirottato a sinistra. Piccolo fastidio all'aduttore per Campagnaro che però ci sarà. Torna Memusciai con probabile panchina per Cocco al centro di una trattativa di mercato che potrebbe portarlo a Salerno nei prossimi giorni. Il servizio. Allora, questa non è il giorno e nella sede opportuna di parlare di mercato e non ne voglio parlare. Quindi non mi fate domande di mercato perché non parlo, non rispondo. Non per maleducazione ma perché non credo che sia... C'è una partita domani che non è fondamentale per noi di più. Sono convinto che se domani dovessimo fare risultato pieno andiamo in Serie A. Quindi in questo momento non parlo di mercato. Io parlo dei giocatori che ho. Partiamo in 22. Quelli ho e a quelli mi affido. Poi lunedì, martedì vedremo cosa succede. Cioè se domani Pescara vince va in Serie A questo? No, va in Serie A. È una mia convinzione. È una mia convinzione che se domani dovessimo vincere abbiamo le nostre chance di Serie A si possono aumentare moltissimo. Dico sempre quello che penso. Questo è quello che penso. Posso sbagliare, ci può essere qualcuno che non è d'accordo con me. Io ho in mano la squadra, io la conosco e io vedo le potenzialità. Ho questa convinzione. Quindi in un momento così parlare di mercato è prima di tutto dell'Eterio ma la seconda cosa non mi interessa proprio. Perugia che è in difficoltà per quanto riguarda i risultati ovviamente. Penso che per il potenziale che ha sia in ritardo di classifica ma questo è dovuto anche a un momento in cui ho avuto tanti infortuni, ha dei problemi e noi dobbiamo essere bravi a sfruttare questo momento quindi la mancanza di giocatori importanti perché in questo momento c'è da dirlo che quando ti vengano a mancare Drolet, Parigini, Del Prete, Belmonte tutti assieme può essere un vantaggio per noi. Quindi dobbiamo essere bravi in questo ma non possiamo e non dobbiamo essere stupidi nel pensare che sia una partita facile perché facile non lo sarà. Perugia è una squadra che non è particolarmente propositiva per caratteristiche sfrutta molto il contropiede è una squadra molto compatta a cui è difficile fare gol e questo lo dimostrano i pochi gol subiti e quindi noi abbiamo preparato bene questa gara e mi aspetto che la squadra faccia una grande partita con coraggio e con determinazione e con personalità. Oggi in campo la Serie B con la partita Ascoli-Lanciano e ci colleghiamo in diretta telefonica con Alessio Giancristofaro. Alessio, a te la linea. Sì, buon poveriggio Elisa, buon poveriggio dallo Stadio Cino e Lillo del Duca di Ascoli-Piceno tra poco, tra poco più di mezz'ora la Virtus Lanciano affronta la prima trasferta del 2016 al cospetto Lascoli-Bianconeri di Davis Mangia in una sfida almeno delicata un'altra finale per la Virtus Lanciano la Virtus Lanciano reduce da due vittorie consecutive sono appena arrivate le formazioni le do lettura immediata annunciandosi che nel 3-5-2 di Roberto D'Aversa ci sono alcune novità importanti nell'assetto tattico dunque dovrebbe giocare Casa Dei tra i pali questa è la formazione ufficiale difesa 3 con Aquilanti che per l'occasione diventa capitano rossonero supportato da Federico Amenta e il ballottaggio tra Rigione e il rumeno Boldor lo vince proprio quest'ultimo il capitano dell'Under 21 rumena che comporrà il trittico di difesa centrocampo vitale a fare il playmaker con Salviato e Di Francesco sull'out di destra Zé Edoardo e Di Matteo a sinistra in avanti l'altra novità il ritorno tra i titolari dopo tanto tempo di Nicola Ferrari che andrà a due stare con Guiro Marilungo a disposizione per Roberto D'Aversa aridità turchi Bonazzoli l'ultimo arrivato in ordine cronologico King di Filippo, Rigione, Bastola, Padovan e Di Benedetto intanto Roberto D'Aversa Parlotta con Guglielmo Maio LDS, Luca Leone proprio vicino alla panchina dedicata alla squadra frentana risponde l'Ascoli con l'anni tra i pali Pecorini, Antonini, Mengoni Iancò, Addae, Caccia Altobelli, Almici tra l'altro un ex della contesa Milanovic e Petagna queste le formazioni in campo si sta svolgendo la fase di preparazione prima della sfida sono attesi circa 300 sostenitori frentani hanno iniziato a popolare la curva loro dedicata la curva nord dello stadio Cino e Lillo del Duca io Elisa per il momento avrei concluso ci sentiamo tra poco più di mezz'ora con Andrea Costantini per tutte le fasi salienti di Ascoli Virtus Lanciano a te Elisa Bene, grazie Alessio buon lavoro scendiamo in Lega Pro alle 17.30 il Teramo sarà di scena l'Arena Garibaldi contro il Pisa di Gattuso vice capolista del girone B di Lega Pro i biancorossi di Vincenzo Vivarini cercheranno di tornare a punti in trasferta anche su un campo molto difficile probabile prima presenza dall'inizio per il neocentrocampista Cruciani che ha debuttato sabato scorso nel secondo tempo con l'Ancona in attacco Moreo favorito sulle noci per un posto al fianco di Forte per il resto Vivarini confermerà la squadra che ha battuto i Dorici sette giorni fa il Pisa si schiererà con uno speculare 3-5-2 con l'ex Chieti Luca Verna in mediana insieme a Macris Ricci in attacco pronto al debutto il neoattaccante Eusebi prelevato dalla Salernitana e dopo la secca sconfitta di Pistoia in attesa tra pochi giorni della sentenza del processo sportivo Dirti Soccer l'Aquila ospita domani alle 15 al fattore Larezzo di Capuano novità probabile in difesa per il tecnico aquilano Perrone che dovrà rinunciare ancora a Maccarrone e Pesoli e Medita di inserire Sanni al posto di Vigoni Gianmarco Menga con la testa divisa tra le aule di Tribunale il rettangolo verde l'Aquila riceve in casa Larezzo si tratta del secondo turno del girone di ritorno di Lega Pro e i rosso-blu sono obbligati a riscattare l'ennesimo tonfo in trasferta rimediato una settimana fa a Pistoia non sarà facile contro gli uomini del vulcanico Eziolino Capuano reduci da sette risultati utili consecutivi a cavallo tra il 2015 e il 2016 in più i Toscagni hanno iniziato il nuovo anno con due convincenti vittorie ottenute contro Rimini e Sant'Arcangelo d'altro canto però gli uomini di Carlo Perrone non possono più permettersi passi falsi lunedì arriverà con molta probabilità la sentenza del Tribunale Federale Nazionale che certificherà l'entità della penalizzazione in classifica per il caso calcio scommesse per non ritrovarsi sul fondo del girone B bisogna quindi far punti il più possibile all'andata finì 1-0 per l'Aquila con un gol in extremis di Nicolas Benzaia per centrare l'obiettivo l'allenatore aquilano Perrone ha in serbo delle novità di formazione in difesa davanti a Scotti ormai titolare della porta potrebbe rivedersi il giovane Sanni in luogo di Bigoni nel terzetto completato da Cosentini e Anderson a centrocampo il dubbio è l'impiego di San Domenico come quinto o come seconda punta in attacco nella prima ipotesi davanti potrebbe rivedersi il capitano De Sousa al fianco di Perna nel secondo caso San Domenico potrebbe agire da seconda punta con Piva e Triarico sulle corsie della mediana si profila invece una pesante bocciatura per l'ex gioiello della Lazio Tommaso Ceccarelli anche a Pistoia non ha saputo sfruttare la chance da titolare e rischia di diventare una seconda scelta le aspettative sul suo conto erano alte ma il tecnico Perrone sembra aver quasi gettato la spugna solo il campo darà però le risposte definitive aspettando quelle ancora più importanti della giustizia sportiva ed è tutto per questa prima edizione della TG6 l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle ore 19 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie per la visione